Nel Friul non vengono stelle come via Penozzi in tal cilio, ma anche una che si sceglie e ascoltano poi sceglie di ciò che pensiamo. Due o signori per scoprire le risultate delle stelle. E anche qualche altra curiosità che non si spettiamo. Il stelle è uno dei principali flumi di risultate del Friul. Nel nostro circa 33 metri sul livello del mare, tra flambi e sterbi. L'agio appunto di risultate, tra spi sulle, sinisture e sincanali. E dopo il scopo di circa 45 km, la parte bassa del Plane Furlane. Sceglie, tra l'ultimo, inter lagone di Grau e Maran. Nel momento in cui le spondi delle stelle, come potete vedere, sono restate a vonde intatte, ha deciso di proteggere tutto questo ambiente fino ad attaccare le risultate alla forza del flume delle stelle mediante il sito di importanza comunitaria, venne a stare europea e regionale. Il stelle, conosciuto fin dall'antichità e citato addirittura di Plini il Vieli, col nome di Anaxum, dal primo secolo d.C., veniva adoperato come collegamento tra i trasporti tra le alte planure, la lagone e il mare. una delle prime località che ha incrociato le stelle sul suo percorso ha una frazionata chiamata Aris dal comune di Rivignan Theor. E provate qui ad Aris e potete incontrare la ville hotel Savornian, costruita intorno al 1200. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu tu Romeo? I berghelli! I berghelli, perché dal 1511, qui, Lucina Savornian e Luigi da Porto, diventano un protagonista di una delle storie d'amore più impossibili di tutto il friume, perché erano due famiglie non erano due famiglie. Questa però è un'altra storia. Facciamo conto le mie storie, conto le storie del nostro gruppo, la via. Nel Parc di Ville, c'è anche una maniola secolare di più di 21 anni, e pensate che sia un esempio unico in Italia, e poi diventata fuori nella sua torre dell'albo del mare. Eh, non c'è un paese in te qui dentro! Nelle rivezze della stelle si chiate anche l'acquario di Aris, gestito dall'ent per tutelare dal patrimonio ittico della regione Friul-Vinegie e Iulie, che è nato al dopovoere come un plan di incubazione e riproduzione di pesce, e, dal 1971, al diventare un laboratorio di idrobiologia. In tal acquario sono gli svaschi che riproduscono gli ambienti di aghe dolce del Friul, davanti alle zone di mondo fino alle sfosse. Questo ci permette di conoscere di ogni la grande varietà di pesce che vivono in questa regione. e di attenzione facciamo che si comportassi vicino e dentro di noi. Vi ho detto che, perché giocare vicino a l'albo non è sempre così sicuro in Friul. Ma ciò che succede? Noi tu mi lasci mai fare un bagnotto a l'albo. Tu mi ha detto sempre... Tu hai pensato? Nome, una regola facile, facile. L'albo va sempre da l'albo che fa, ma non fa dire. Allora, venga l'albo, dorme. Magari, la prossima volta si chiederemo direttamente l'albo. Ecco ora, che vieni a lavorare di aghe, uspettiamo un flume di poleare. Sì, e manco, forse ti arrivi a fare un bagnotto finalmente. Iscriviti al canale. Grazie a tutti.